Lo scrittore Ligure Giuseppe Conte ha vinto la seconda edizione del premio di poesia Celle, Arte e Natura. Il riconoscimento è stato assegnato a Pistoia, nella villa che ospita la collezione Gorri, straordinaria raccolta di opere d'arte ambientale, da una giuria composta da Fabio Gorri, Antonio Franchini, Andrea Amati, Silvio Perrella, Antonio Riccardi e Sandro Veronesi. Padrone di casa Giuliano Gorri, fondatore della collezione e storica figura nel mondo della cultura contemporanea. La poesia qui è sempre stata di casa, veramente, e chi l'ha saputa leggere lo sa bene come è composto le opere ambientali del Parco di Scelle. A vincere il premio è stato il poeta Ligure Giuseppe Conte, nato a Imperia nel 1945, ha pubblicato raccolte di poesia come L'Oceano e il ragazzo e Ferrite e rifioriture. Ha scritto saggi e libri di viaggio, ma anche a romanzi. Traduttore di Shelley, Whitman e di H. Lawrence, Conte è anche portavoce di una visione forte della poesia. Per me scrivere poesia vuol dire resistenza spirituale rispetto al mondo com'è. Io ho un'idea antagonistica di poesia. La poesia deve, in qualche modo, prefigurare un mondo diverso da quello che c'è ora. Questa mi sembra la funzione più importante. Io almeno la pratico così, almeno per me poi. Studioso di miti e culture, Conte rivendica uno spazio alla poesia, uno spazio che è tanto culturale quanto reale. Una parola al punto giusto è come quel badito d'ala, di farfalla, che può far suscitare un terremoto a 10.000 km di distanza. Quindi poesia, la parola, il ritmo, il punto e anche la rima, quando sono efficaci le rime sono straordinarie. Lo spirito del premio creato da Giuliano Gorri è quello di riconoscere e indicare al grande pubblico un poeta che esprima nelle sue opere una sensibilità effettiva per la natura e l'arte. Idea che, nella cornice della fattoria Celle, prende un valore ancora più evidente.